Allora, gli X-Game li faremo più avanti. Adesso andrei a Croazia. Un Shoei Rally. Un Shoei Rally. Un Shoei Rally. Che fortuna! Sinistra veloce, destra facile, non tagliare. 60, tornante destro, dopo chiesa. 40, sinistra veloce. Centro, al centro. Destra facile lunga, crinale, al centro. E sinistra media, dai dentro per destra veloce. No, battenti così. 120, al centro. Crinale, sinistra facile, chiude. 40, sinistra media. 40, tornante sinistro, non tagliare. 60, destra facile. 60, destra facile. Centro reti, al centro. Finistra veloce, 80. Finistra veloce, 60. Destra facile, e al traguardo. Per lo meno siamo arrivati fino in fondo. Ottavo posto. Qua, eh no, bisogna riprovarla. Sono andato troppo pieno, ci sono andato. Devo partire un pelo più... Un pelo più lanciato. Dai, ci riprovi un'ora. Ottavo posto. Non va bene, non stavo posto seguito. Dai, ci riprovi un'ora. Adesso ci vediamo. 40, destra veloce in... Sinistra veloce, 60. Sinistra media, non tagliare, 80. Sinistra veloce, 60. Destra facile, 40. Sinistra facile, poi sinistra facile, non tagliare. Sinistra veloce in... Destra facile, non tagliare. 60, tornante destro, topo chiesa. 40, sinistra veloce. 100, al centro. Destra facile, lunga, finale, al centro. E sinistra media, sei dentro per destra veloce. 120, al centro. Trinale, sinistra facile, chiude. 40, sinistra media. Troppo. 40, tornante sinistro, non tagliare. 60, destra facile. 60, destra facile. Centoretti, al centro. Sinistra veloce, 80. Sinistra veloce, 60. Destra facile, e al traguardo. Dai, che ce l'abbiamo fatta? Secondi, niente male. Vabbè dai, secondi. Secondi va bene, dai. Andiamo a vederci replay. Ho fatto i tornanti, le lenti. Lenti, xingui. Ah, fatto buonissima sta bene. qua mi son capottato se non mi capottavo qua fatto male anche sto tornando buono grande hai sbloccato un nuovo set di livree ecco una sfida per te batti il tempo prefissato ehi dante se vuoi correre in un contesto diverso dal solito potresti venire con me in malesia fai ancora un po' d'esperienza e ti porterò con me